Una vita anticipazioni 1-7 giugno, Lucia e Telmo diventano amanti. Telmo, come vedremo in questa settimana, ha deciso di partire e lasciare a Casias 38, ma ben presto ritornerà e Lucia non riuscirà a contenere la sua gioia. L'ex prete però era andato a scoprire la verità che riguardava il piccolo Matteo e così ritorna proprio da Lucia per sapere la verità e dare conferma a quello che ha scoperto. A questo punto la donna sarà costretta a dirgli tutto e confessa che Matteo in realtà è suo figlio. Lucia e Telmo si baceranno e inizieranno così una relazione extraconiugale, sebbene sanno che Edoardo non gli renderà la vita facile. Ramon cercherà in tutti i modi di aiutare Felipe, gli procurerà un lavoro, ma questo lo farà andare su tutte le furie, mentre Liberto convincerà l'avvocato di accettare questo lavoro per il suo bene e perché staccare la spina dal paese di Casias 38 possa giovarne alla sua salute. Felipe accetta il lavoro dato da Ramon. Nel frattempo Ienoheva incontra Ariza e sarà costretta a confermargli e a confessarli tutto al marito. Gli dirà di trovare immediatamente il denaro che l'uomo chiede, in minor tempo possibile per il bene della sua vita. Questo è tutto quello che accadrà nella sua popperona vita dall'1 al 7 giugno. Iscriviti al canale per non perderti nessun'altra anticipazione. Un abbraccio e un buon inizio settimana da Angela da Tutto dal Web.